Nei proverbi si dice che il giusto, come le Bibbie che abbiamo noi, il giusto rimane saldo nella morte. Questa è veramente una sostituzione che è stata fatta perché a un certo punto la dottrina farisaica doveva introdurre il discorso della resurrezione o comunque di una sopravvivenza dopo la morte e quindi lì, mentre nei testi antichi c'era scritto che il giusto rimane saldo nella sua integrità e lo capiamo, hanno sostituito integrità con morte per dire che il giusto rimane saldo anche dopo che è morto ma è un'interpolazione successiva. Nei testi più antichi dove non c'era questa necessità teologica si dice semplicemente che il giusto rimane saldo nella sua integrità cosa che comprendiamo tutti perché non avevano bisogno di introdurre il concetto di una qualche forma di sopravvivenza che è stata fatta dopo la morte e quindi ho risposto ok. Allora, dicevamo, come sono arrivati questi quiz? Facciamo così, adesso chiedo un attimo di spegnere la telecamera grazie a tutti Grazie.